Siamo con il nostro Maurizio Polverini che finalmente dopo tanto torna a parlare di sport. Ti ripresento perché con questa mascherina parecchi potrebbero non riconoscerci. Sono successe cose importanti nell'ambito calcistico, sulla realizzabilità ho i miei dubbi ma vorrei che me li dissi passi tu Maurizio. Buongiorno, innanzitutto Leo bisogna dire quello che è successo in Italia purtroppo perché due mesi che non ci sentiamo. E non ci vediamo, purtroppo abbiamo avuto questa calamità del coronavirus anche per questo servizio che facciamo di calcio. Ma io e Leo chiaramente auspichiamo che tutte le famiglie rispettino quello che il governo sta in questo momento chiedendo anche perché un diffondersi del virus non così grave come sta avvenendo ma cercando di ridurre i contagi può portare a ripartire questo paese perché a parte il calcio siamo un po' in difficoltà tutti con il lavoro e con l'attività. Ora non volevo fare questo pistolotto ma era necessario giusto farlo. Il calcio, ecco, anche dire che il calcio è la cosa a questo momento meno importante che ci può essere però anche la Serie A è un'industria, ha un grande fatturato e quindi chiaramente la FGC sta provando a ricominciare questo campionato. Io sinceramente anche da ex calciatore non riesco a capire come si possa fare perché il calcio è uno sport di contatti, uno sport fisico, uno sport di incontro quindi chiaramente l'allenamento si può fare, si può fare anche le partite a porte chiuse ma il rischio, secondo me il rischio zero per i calciatori non ci sarà mai. Vediamo, la FGC sta discutendo da molto tempo con il governo, ha fatto anche dei protocolli di sicurezza, sicuramente le capacità soprattutto dei club di Serie A sono importanti anche dal punto di vista economico per fare i tamponi per essere seguiti. La Serie B e anche la Lega Pro dell'Arezzo penso che quest'anno non ripartiranno, infatti il presidente della Lega Pro ha prospettato la promozione di quattro squadre, quindi le prime tre dei tre gironi della Lega Pro, una da ritrovare a sotteggio fra le prime e poi le non retrocessioni, quindi la Serie B e la Lega Pro sicuramente non ripartiranno. La Serie A c'è questa volontà di ripartire e io sinceramente ho molti dubbi. Allora quanto ho capito siamo con l'Arezzo, siamo salvi quantomeno, non rischiamo niente, non si guadagna niente, la Serie A e magari ci risentiamo la prossima settimana in attesa di sapere le reazioni del governo perché tutto, come ha detto Maurizio, è vincolato sì alla decisione della federazione ma anche poi alla risposta da parte del governo sulle condizioni della salute. Maurizio grazie, ben ritrovato e a presto. Poi c'è un'altra cosa, sotto tutti ormai se non ci sentiamo anche la UEFA chiaramente si incontrerà perché ci sarà anche da definire eventualmente la possibilità di terminare se l'Europa League che la Champions, anche questa è una prospettiva piuttosto difficile però questa potrebbe forse essere più realizzabile perché c'è l'idea eventualmente nel caso in cui eventualmente venga accettato di finire e di arrivare in fondo a queste competizioni c'è la possibilità di fare il girone finale in una città e questo potrebbe anche svolgersi una settimana, dieci giorni, quindi semmai nei mesi di luglio-agosto. Questa qui potrebbe essere una possibilità più plausibile però vediamo, anche questo aspettiamo la riunione e poi settimana prossima qualcosa in più abbiamo. D'altronde a quelli che dicono che il calcio è l'ultima cosa dico di no perché il calcio è un'industria come le altre, se ripartono le altre industrie è giusto che riparta anche il calcio con le dovute cautele. Grazie Maurizio.